Buonasera a tutti amici e fratelli rosa nero, secondo video di oggi per chi è arrivato all'ufficialità del terzo acquisto veramente scusate, questo non è un acquisto ma un giocatore preso in prestito stiamo parlando di Manuel Peretti, difensore centrale classe 2000 che viene in prestito dall'Ellas di Verona siccome bisogna avere una rosa piena di under, se non mi sbaglio allora, bisogna avere in campo obbligatoriamente sempre un 2000, un 2001 e 299, comunque una cosa di questa e abbiamo preso un difensore centrale che può giocare pure come mediano che è in un 4-3, in un 4-3-1-2, mi stavo confondendo con la formazione albero di Natale con un 4-3-1-2 va benissimo perché lo puoi mettere sia davanti la difesa, non come regista, diciamo all'apirlo ma i due mediani, quelli di rottura, uno di rottura e uno che comincia il gioco e lo puoi usare come difensore centrale perché ne devi usare 4, è un 2000 quindi ottimo anche questo, ne arriveranno altri di under perché ripeto è obbligatorio per il tipo di categoria poi nel frattempo il 26 agosto i nuovi giocatori, la nuova squadra verrà presentata al Barbera dalle vecchie glorie rosa nero, da Sorrentino, a Chimenti, a Amauri che presenteranno i nuovi giocatori, presenteranno il nuovo Palermo nel frattempo il 16 di agosto apre la campagna abbonamenti quindi ragazzi se abitate a Palermo non avete scuse abito a Ghiro, se a dove abito a fare abbonamento, io abito in Lombardia per me è impossibile sto aspettando appena si sa qualcosa in più sui diritti tv per vedere a cosa mi devo abbonare per seguire il Palermo e lo farò subito quindi abbonatevi nel frattempo e me l'avete anche chiesto il 18 di agosto in realtà in teoria ci dovrebbe essere la prima partita di Coppa Italia Serie D contro il Biancavilla quindi la prima partita ufficiale da cartellino del Palermo è contro il Biancavilla ma il Palermo ha chiesto il reinvio perché la squadra ancora si deve finire di formare quindi da qui al 18 agosto non sarà pronta quindi a quanto pare verrà rinviata e la richiesta di rinvio è stata accolta però appena so qualcosa in più ve lo faccio sapere ragazzi io non ho altro da dire se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete iscrivetevi al canale di Luigi Rosanero, iscrivetevi per sapere tutto quello che succede intorno al Palermo siamo a 198 ma arrivare intanto a 200, arriviamoci siamo un ruoio in a che siamo un fiemi quindi mettete mi piace, iscrivetevi così mi aiutate ad arrivare a 200 chissiani che mi seguono e così continuiamo a parlare del Palermo ragazzi nel bene e nel male che siate 198, che siate 200, che siate 100, sempre forza Palermo ciao 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 ciao